Magno di folla ed apparenti ed entusiastici consensi per il sindaco di Roma Gianni Alemanno giunto quest'oggi a Crotone a sostegno del candidato alla provincia per il PDL Stanislao Zurlo. Alemanno durante l'incontro con la stampa e i cittadini avvenuta presso la sala consigliare del comune di Crotone si è detto convinto di una prossima affermazione elettolare del centrodestra contro il continuismo rappresentato dal centrosinistra ed il suo candidato Ubaldo Schifino. La Calabria merita un indirizzo diverso dal punto di vista politico, il centrosinistra ha fallito tutte le aspettative e soprattutto quello che voglio dire ai calabresi da sindaco di Roma è che non è vero che mancano le risorse, non è vero che il governo ha levato spazi e possibilità al sud, è vero che mancano i progetti, i progetti devono essere fatti dalle regioni del mezzogiorno che sono tutte governate al centrosinistra e quindi oggi bisogna cambiare aree in Calabria, come in Campania, come in Puglia.